In Avengers Infinity War, l'ultimo superfumettistico film della Marvel targato Disney, ci sono 76-76 personaggi. Moltissimi i famosi supereroi che abbiamo visto in solitaria o sempre nei primi due capitoli di Avengers il grande Robert Downey e lunga R. Nel ruolo 501 Tony Stark barra Iron Man, Chris Amortin quello di Thor, Mark Ruffalo alias Bruce Banner barra Hulk, Chris Evans e Steve Rogers barra Captain America, Scarlett Johansson e Natasa Romanov barra vedova nera, Benedict Cumberbatch il Dr. Strange, Tom Holland e Peter Parker barra Spider-Man mentre Josh Brolin è il protagonista assoluto Thanos. Solo per citarne i più famosi ma c'è anche il divertente e divertito Chris Pratt nel ruolo 501 Peter Quill barra Stare Lord dei Guardiani della Galassia. Ma non spaventatevi. Per gli amanti del genere, perché è inutile far finta di niente, un po' amanti del genere bisogna essere per sorbirsi 2 ore e 29 minuti di battaglie e soprattutto mazzate tra i protagonisti. Questo terzo capitolo della saga che finisce come gli altri due, con una sequenza importante dopo tutti, ma proprio tutti i titoli di coda, è il film di Ben Vodi. Punto tali e tanti sono gli intrezzi, gli spunti, i tasselli del puzzle che si aggiungono a ogni scena, le strizzatine d'occhio, le citazioni, le battute sapide, i momenti epici, quelli drammatici, la risata liberatoria e la lacrima trattenuta. E quasi poco importa ricordare la trama che, come in tutti i più grandi racconti, è di una semplicità quasi disarmante Thanos, potente signore della guerra ed espoda, famigerato in tutta la galassia per la sua malvagità, sta conquistando tutte e sei le gemme dell'infinito per ottenere un potere illimitato su tutto l'universo. Gli Avengers sono chiamati a mettere da parte le loro divisioni interne, che ci sono, come nei migliori partiti, e a unirsi per combatterlo. Il racconto primordiale tocca naturalmente potenti temi universali e non si può non rimanere colpiti dalla maestria dei registi nel tenere in piedi i vari e diversi registri, narrativi e nel gestire, con misura, una moltitudine di protagonisti.